A Gallarate l'ufficio Relazioni con il Pubblico ha una sede tutta nuova, sempre all'interno del Palazzo Broletto di Via Cavour, spostato di pochi metri dalla vecchia sede ma con una sua autonomia, un punto di incontro importante tra cittadino e comune. Offre un grande servizio al cittadino, è un ufficio che indirizza i vari cittadini nei settori di competenza e quindi ascolta le esigenze e le interpreta perché non sempre il cittadino è in grado di capire a quale ufficio deve rivolgersi. Diversi servizi collegati anche all'ufficio anagrafe e stato civile che sono disponibili presso l'URP, come la stampa di certificati, il rilascio gratuito dello SPID, ma non solo. Aiuta nel prendere appuntamenti nelle residenze online e non solo, nel senso che questo ufficio supporta anche il comune e il cittadino nel gestire tutti quei servizi che non sono propriamente offerti dal comune ma offerti dal ministero, dalla regione. Quindi ad esempio aiuta il cittadino nel compilare le domande per quanto riguarda la dote scuola, la dote sport, il bonus gas, il bonus trasporti, insomma tutta una serie di servizi dove la burocrazia alle volte rende le cose un pochino più complicate e quindi aiuta nel compilare tutte queste domande. All'inaugurazione dell'ufficio relazioni con il pubblico anche il sindaco Andrea Cassani e alcuni rappresentanti della giunta, oltre al personale che opererà ai diversi sportelli del servizio.